buonasera a tutti e ben ritrovati da india novembre 3 foxtrot oscar bravo fabio in bolzano questa sera un breve video per una piccola delucidazione sul sul funzionamento del del vox di questo apparato dell'usdr plus il classico red corner perché molti utenti e lamentavano un funzionamento non corretto del vox specialmente più che in foglia siccome c'è la possibilità poi approfondiremo in un altro video anche quello di fare ft 8 con i cavetti audio collegati al nostro red corner un'entrata un'uscita audio che potremmo poi sfruttare anche sul tablet o sul pc per fare appunto ft 8 e collegando questi cavetti funzionava male il vox anche in funia funziona male il vox specialmente con il software originale 1.02 e addirittura attivando il vox senza trasmettere nulla a volte va in blocco la radio in tx dovete spegnerla riavviarla perché non torna più in rx bene giocando un po sul mio ho scoperto un pochettino come funziona la questione del vox praticamente andiamo nel menu adesso vi do un classico esempio adesso il vox è 3.1 eccolo qua noi attiviamo il vox e vi faccio vedere una cosa a volte vedete va in blocco allora bisogna poi a volte spegnere e appunto da questo malfunzionamento non è un malfunzionamento è perché attivando il vox però noi nella voce successiva una volta che abbiamo attivato il vox adesso ecco vi do il classico esempio vedete che rimane acceso bisogna spegnere la radio ho scoperto che cos'è praticamente questo vox ha anche un antivox 3.1 che però non è nominato come antivox sarebbe il classico noise gate qua lo riporta a cosa serve il noise gate ci serve sì quando siamo in QSO in SSB ci taglia il rumore di noise di fondo possiamo stabilire da zero il parametro arriva oltre il 40 penso quanto rumore di fondo cancellare cioè non si attiva la trasmissione in questo caso fino a un tot di decibel di guadagno microfonico e quindi se noi andiamo a impostare un gate un po' più alto noterete che il funzionamento inizia ad andare come dovrebbe attiviamo il vox 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 0, 3, 1, 2, 3 1, 3 0, 5, 5, 6, 7, 8, 28, 24, 8, 29, 24, 9, 30, 2030 Praticamente è la regolazione del guadagno anche per il vox è un anti vox diciamo ed è questo che tarato giusto vi farà funzionare bene il vostro vox se siete in un ambiente molto rumoroso e dovrete parlare ad alta voce terrete non so un noise gate a 5, 6 e urlando a hola va in trasmissione se invece siete in un ambiente molto silenzioso come sono io adesso lo tenete a uno la vedete che hola funziona bene detto questo ok detto questo anche per il funzionamento in FT8 praticamente cercate di tararlo con il gate sempre acceso magari al minimo lui quando non c'è segnale torna in RX quando invece arriva il segnale bello forte lui parte in trasmissione di modo che non ci siano partenze in TX accidentali oppure che rimanga in TX perché il rumore di fondo è talmente forte che con un gate a zero eviterà aperta la trasmissione questo è un po' l'arcano mistero no è una cosa semplicissima che però anche io non ci ero arrivato perché questo è nominato noise gate e fa la funzione non solo di anti-vox ma anche di noise gate non c'è un vero e proprio parametro come anche il gain del vox purtroppo non lo hanno messo su questo apparato e ci dobbiamo un po' arrangiare appunto con con questi parametri qui però funziona benissimo grazie ragazzi per avermi ascoltato ancora una volta e auguro tanta tanta buona radio a tutti un pollice in su se vi è piaciuta la guida e ci sentiamo presto mi raccomando iscrivetevi sempre al canale che vi è di enorme supporto ciao ciao